La giunta comunale di Terni, soproposta dell'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco Benedetta Salvati, ha approvato il progetto esecutivo del primo straccio funzionale dell'intervento di ristrutturazione del teatro comunale Giuseppe Verdi. Questo significa, spiega Salvati, che potremo andare immediatamente a gara per l'aggiudicazione dei lavori. I costi dell'intervento sono stati adeguati agli ultimi aumenti e ammontano complessivamente ad 8 milioni e 166 mila euro. La gara sarà europea a procedura aperta telematica e ci saranno 15 giorni di tempo per la presentazione delle offerte. L'intervento complessivo sarà attuato in due stracci funzionali. Il primo, al quale si darà il via immediatamente, usufruisce anche di un cofinanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. Per il finanziamento del secondo e ultimo straccio funzionale, l'amministrazione comunale ha ottenuto un contributo a valere sulla linea di finanziamento rigenerazione urbana per l'annualità 2021, poi confluito nel PNRR. Anche per questo secondo straccio le procedure per l'affidamento dell'appalto integrato saranno effettuate entro la fine dell'anno. Nelle primo straccio sono previsti i lavori di demolizione della parte del teatro retrostante la facciata, la realizzazione del ridotto dell'involucro del teatro, compreso il tetto, a parte la torrescenica che sarà realizzata con il secondo straccio. Sono stati inseriti anche i fondi necessari alla supervisione archeologica. Con questa delibera, che definirei storica, conclude le vice sindaco Benedetta Salvati, diamo dunque avvio all'intero importantissimo intervento per la realizzazione del nuovo Teatro Verdi di Terni, una struttura innovativa ma che tiene conto della storia del teatro stesso. Grazie a tutti.